Andiamo da Giuseppe Zannone, capelli a testa alta, per i boschi. Buonasera a tutti. Giuseppe, buonasera. Buonasera. Per favore, siamo... Visto che si parla di strategie, anche noi utilizziamo la nostra strategia con quello che sono dei trattamenti molto personalizzati, molto efficaci. Con un attento esame dermatoscopico andiamo a stabilire lo stato di salute della cute e dei capelli per poter poi intervenire con una tecnica che possa essere sia di tipo estetico o di tipo chirurgico. Ci vengo a precisare che sono due tecniche completamente diverse che vanno consigliate a persone che hanno la possibilità di poter intervenire chiaramente in rapporto a quello che sono le condizioni. Quella che vediamo qui sull'immagine è una soluzione non chirurgica, una soluzione estetica che ci permette di ricostruire completamente tutta la parte mancante in modo completamente estetico senza nessun tipo di condondicazione o di effetti collaterali. Che può essere consigliata in modo particolare sulle donne perché le donne non si possono sottoporre all'autotrapianto, che è una soluzione chirurgica, per un semplice motivo perché il trasferimento dei bulbi che noi abbiamo sulla zona occipitale non può essere inserita in modo uniforme e in modo quantitativo, a differenza invece degli uomini. Ecco perché ci sono le due soluzioni che vanno consigliate in rapporto a quello che sono le condizioni. Come dicevo prima la soluzione estetica può essere molto consigliata nelle donne perché ci permette di ottenere i capelli lunghi molto velocemente e per chi negli ultimi tempi purtroppo si sottopone a chemoterapia avere un risultato anche in tempi brevi. Sono interventi certificati, cioè voi se le cose dovessero andare male recuperate, male vuol dire che magari il trapianto non riesce perfettamente? Diciamo che sul trapianto bisogna valutare bene prima di poter intervenire perché il trapianto è molto particolare e bisogna analizzare bene le condizioni che ritroviamo. Questo trapianto volevo dire l'altra soluzione. Con la soluzione di impianto, l'impianto è più garantito perché l'impianto ci permette tranquillamente di poter analizzare dettagliatamente insieme quello che sono le problematiche. Ma quello che la gente chiede, ma si nota poi dopo? Non si nota perché parliamo di capelli naturali al 100%, qui vanno riintegrati perfettamente, sono capelli europei. Perché una volta c'erano delle cose che facevano, erano ridiche. Conte tranquillamente ha avuto un ottimo risultato. Conte era pelato, pazzesco. Era pelato, ha avuto un buon risultato, sì, è intervenuto. Per cui, andate a Giuseppe. Io consiglio sempre di visitare i nostri siti, la nostra pagina, abbiamo un nostro numero di WhatsApp per dare una prima valutazione iniziale e poi poter intervenire chiaramente con un nostro intervento. Grazie Giuseppe. 3, 8, 8, 5, 2, 3, 2, 3, 5.